L'inchiesta sorgente che oltre a sgominare una banda di spacciatori ed assuntori di droga ha anche svelato come il sindaco di Licata Angelo Graci spingeva per l'assunzione dei suoi due figli al lato idrico, ha fatto la sua prima vittima. Si è infatti dimessa dall'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione del Tre Sorgenti la cognata di Graci, Santa Bologna, che assieme a Salvatore Consagra ed Emilia Sorriso faceva parte della triade di Licatesi che mantenevano in vita un carrozzone clientelare come questo consorzio acquedottistico. Le dimissioni di Santa Bologna saranno sicuramente state prudentemente concordate per evitare che ci possa essere un coinvolgimento penale, che attualmente non c'è, nella richiesta che il sindaco Graci continuava a fare all'amministratore di Girgenti Acque, Giuseppe Giuffrida, millantando di essere determinante all'interno del consorzio ed in cambio chiedeva di assumere i due figli, il maschio disoccupato e la femmina che già lavora come precari al Tre Sorgenti. Nei giorni scorsi, proprio all'indomani degli arresti, si era dimesso il presidente, Calogero Mattina. Adesso il consorzio sarà commissariato dalla regione, che potrebbe avviare anche l'iter per lo scioglimento. Nei prossimi giorni il sindaco Graci, che già si deve difendere in tribunale dall'accusa di corruzione, sarà interrogato dai giudici del Tribunale di Agrigento, che hanno indagato sulla vicenda Tre Sorgenti, e dovrà spiegare la sua posizione. Graci, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di istigazione alla corruzione. È probabile che i magistrati vogliano sentire anche Santa Bologna ed indagare sulla sua posizione, visto che all'interno del CDA del Tre Sorgenti la cognata di Graci avrebbe fatto gli interessi della famiglia del sindaco di Licata. Ed è per questo che la signora Bologna si è dimessa. Gli inquirenti, inoltre, stanno indagando sulla denuncia presentata da un altro componente del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Acquedottistico, Salvatore Consagra, che ha detto di essere stato minacciato, ed avrebbe indicato anche da chi, con il lancio di pietre all'indirizzo della saracinesca del suo garage. Nella notte, infatti, secondo il racconto di Consagra, qualcuno gli avrebbe gridato dimettiti, dimettiti, e poi avrebbe scagliato le pietre. Di questa vicenda era stato informato anche il Consiglio di Amministrazione del Tre Sorgenti e questa denuncia è riportata anche nel verbale della riunione, dove si riporta anche la telefonata di un ex consigliere comunale dell'Udc, che risulta essere lo sponsor politico di Consagra, con la quale ex presidente del Consiglio Comunale di Licata manifestava preoccupazione per quanto accaduto. ed è probabile che questo ex consigliere comunale venga interrogato dalle autorità inquirenti.